Musica Cari amici Benvenuti in questa nuova puntata di Minecraft Questa è la snapshot 14w18 E iniziamo subito a Cercare l'intruso in questa valle di pecore Avete 5 secondi per trovare l'intruso 4, 3, 2, 1 Fine del tempo Avete trovato l'intruso e l'intruso ovviamente Il maiale Eccolo qui Il maiale Invece come avete visto il resto sono tutte Pecole Ciao Esatto abbiamo una nuova skin di Kiria Oppure un nuovo bug di Minecraft Dato che sembra impossibile riuscire a farla avere La skin normale speriamo che Prima della 1.8 si stemmino Comunque per ora abbiamo provato Piuttosto che Steve a fare la versione pecore Quante di voi l'avevano effettivamente Trovata Fatelo sapere i commenti Ma ora andiamo subito a vedere Le modifiche di questa snapshot Diciamo che fondamentalmente si Basa su una interessante Aggiunta I blocchi di slime Le erano già aggiunti Sì ma l'essenza è tutta incentrata sulle loro modifiche Esatto La Mojang ha Diciamo Introdotto una mod esistente Per quanto riguarda gli slime block Adesso Gli slime block sono collosi tra di loro Quindi Se voi vorrete Fare O fare Delle Degli spostamenti Con i pistoni Di molti blocchi Potrete farlo Finalmente Grazie agli slime block Proviamo a tirare questo bot Cioè a pigiare questo bottoncino Guardate I blocchi vanno avanti E tornano indietro tutti Tutti Sì Questa è una modifica Molto molto interessante Per alcune Magari porte nascoste Passaggio alto Che finalmente I pistoni Si potranno Potranno creare Delle cose più complesse Grazie ai nuovi Le nuove funzionalità Degli slime block Scommetto che i map maker Sapranno cosa farne Di questa nuova funzione Esatto Qui abbiamo messo alcuni esempi Questa è una Mi figura assurda Dove Abbiamo 12 blocchi Di cui come vedete Questi due Non sono attaccati Agli slime block Quindi ora Prigi al bottone Non la leva Guardate Si uniranno Questi due staccati E torneranno indietro Tutti insieme Perché si sono incollati Esatto Ma attenzione Se io mettessi Prova di nuovo A pigiare il bottone Ok Gentilmente Perfetto Ma se ora io mettessi Il tredicesimo blocco Prova a pigiare il bottone Non funzionerebbe più Funziona soltanto Fino a 12 blocchi Quindi state molto attenti Naturalmente i 12 blocchi Non serve che siano di slime L'importante è ricordarsi Che solo i blocchi Attaccati allo slime Verranno Mossi Quindi Qui ho messo Un po' di blocchi casuali Tutti attaccati Ai blocchi di slime E come vedete Vanno avanti E indietro Perfetto Questo non succede Invece Per quanto riguarda Tre blocchi Che sono Il chest La fornace E l'ossidiana Quindi come vedete Cliccando il bottone Avrà avanti Soltanto La parte degli slime Perché non Si attaccano A questi tre blocchi Quindi se invece Per esempio Vedessi un blocco D'ossidiana Qui davanti Non si muove più niente Che è come se Avesse incontrato Un muro invalicabile Avesse invece trovato D'ossidiana Un altro tipo di blocco Che riesce a spostare Chiaramente A quel punto Lo Lo prenderebbe Nella sua morsa Ma chiaramente Non essendo più attaccato Allo slime block Se ce ne fossero Altri aggiuntivi Li lascerebbe A se stessi E naturalmente Tutti questi identitivi Che state vedendo Sono con gli Sticky slime block Ovvero quegli appiccicosi Con appunto Gli slime ball Quindi Trucidate tutti gli slime Che dovete Questo è un clock I clock Lo sanno soprattutto I map make Questo qua è un nuovo Modello di clock Che può essere sicuramente Molto utile Interessante E semplice da fare Guardate Fate così E questo Si ripeterà All'infinito Tadà Aiuto Un nuovo E semplice Modello di clock Questo invece È un detector È un detector Di entità Stai fermo un secondo Non farmi danni Quando noterà Una qualunque Modifica Nei pressi Di questa zona Nei pressi Del pistone Lui capirà Che c'è stato Qualche cambiamento E quindi si azionerà Quindi proviamo A togliere questo blocco Vedete si è azionato Rimettiamo un blocco E farà così E questo può essere sicuramente Comodo E utile Se per esempio State facendo una mappa E volete attivare qualcosa Senza mettere magari Un pressure plate Un tripwire Potrebbe essere molto comodo Usando la redstone Perché la normalissima redstone In questi casi Una volta che il giocatore Ci passerà sopra E come sapete Passandoci sopra Si attiveranno Le particelle Guardate Adesso ci vado sopra Si è accorto Si è accorto di me E quindi Si è attivato E ovviamente E ovviamente Così ti accorgi Che qualcuno Entrà Ma eccidente Naturalmente funzionerà Soltanto Fino a che La redstone Sarà attivata Appena smetterà Di fare le particelle E arriverà Un altro segnale Che si accorgerà Che c'è stato Un nuovo cambiamento Nei dintorni Andiamo ora A vedere Quello che vi ho Introdotto prima Ovvero che soltanto I blocchi attaccati Allo slime Si attaccheranno Vedete Sposta tutto Però Poi quando torna indietro Non recupera I blocchi mancanti Invece se adesso Attaccassi tutto Vai di nuovo Riprende tutto Ovviamente Fino a 12 blocchi Ma allora Vi potreste chiedere Ma se io avessi Due pistoni A questo punto Potrei moltiplicare L'effetto Quindi magari Due pistoni Reggono 24 Tre pistoni 36 E così via No Come vedete Qui abbiamo Una gallina Che brava Stai attenta gallina Molto attenta Qui abbiamo 12 blocchi Di slime Quindi Due pistoni Sposteranno 12 blocchi di slime E invece no E invece no Un pistone Si Aspetta Tolgo questo Un pistone Si Ma due pistoni No Come mai questo Perché dovete Considerare Che Anche Che uno Dei due pistoni Quello che si attiverà Per primo Quindi dipendentemente Da dove Premeremo Il bottone In questo caso Viene Preso Spostato Dal primo pistone Cioè il secondo Pistone Verrà spostato Dal primo pistone La gallina Non c'entra Qui Giusto per Dimostrazione Scientifica Quindi a questo punto Il secondo pistone Ha la funzionalità Di Tredicesimo Blocco Che non può Spostare In qualunque momento Quindi togliessi Uno slime block E riattivassi Il sistema Di pistoni Potrete vedere Che il primo pistone Sposta al secondo Quindi tredicesimo Blocco E funziona Quindi non potrete Usare più pistoni Ma ogni pistone Attaccato Funzionerà come blocco Aggiuntivo Da spostare Quindi la somma Per il momento In questa snapshot Sarà sempre E necessariamente Di dodici Questa è Un ultimo esempio Per farvi capire Il 100% Lui adesso Ha attaccato 6 Aveva attaccato 6 slime block Per esempio Ma quando Ha premuto Il bottone Sono andati A unirsi A questi Che per il totale E' diventati 13 A questo punto Lui quando Cercava di tornare Indietro Aveva troppi Blocchi Con cui tornare Indietro Quindi Non è riuscito A portare indietro Più nulla Perché non riesce A spostarne Più di 12 Stesso discorso Invece ne togliesi Uno E facessi Lo stesso discorso Benissimo Li ha presi Tutti Benissimo E quindi adesso Continua a funzionare Questa è Una porta Fatta con gli slime block Attualmente adesso Ho messo solamente Delle leve Poi potete fare Un sistema Più bello Automatizzato Vi ricordiamo Naturalmente Che dovrete usare Necessariamente L'ossidiana Perché altrimenti Se prima è l'infinito Quel blocco Si alza di uno Dipende di quanto La vuoi fare alzare Così si fa E quindi magari Qui avete messo La vostra bella Linea di Di ossidiana E quindi avete La vostra porta Che vi esce Giusto per farvi Questo tentativo Non è che Voleva essere Fatta a meraviglia Voleva solo Farvi capire Il funzionamento Delle porte di slime block Ovviamente Al massimo La porta va 3x3 Perché in questo caso Sposta La porta E due pistoni Quindi il numero È già di 11 Non potremmo fare Porte più grandi Con questo sistema Di slime block Ci raccomandiamo O se Diana O se no Vi sposta tutto E vi manda In pappa Il vostro Funzionamento Perché non riesce A spostare più blocchi E questo cos'è? Più blocchi Questo salici sopra È un'interessante Novità assurda Che se Uno è Su uno slime block E viene attivato Il pistone sotto di lui Questo verrà Lanciato in area Quindi questo serve Per voler dare Una Una pecora A chi ne ha Tanto bisogno Perché ha voglia Di un po' di caldo La notte Però Quello che dicevo È che quindi Può essere sicuramente Molto comodo Perché Potete sparare in aria Voi Quando lo volete Voi Grazie ad attivare Il sistema Solo in determinati Momenti Oppure Potrete farlo Esattamente Con tutti gli altri Mob Quindi abbiamo Per esempio Mob buoni O anche Mob cattivi Come per esempio Può essere Una Witch Attiva E ovviamente Tutti gli altri Mob Inoltre Questo funziona Anche Per quanto riguarda L'entità Quindi È caduto giù Quindi Per esempio Un uovo Non cadere Vai Lancia l'uovo in aria E Oppure Anche qualunque Altro oggetto Wow L'hai lanciato Con l'angolazione Dove l'hai andato? Nel tuo inventario No no Era quello di diamante Dove l'hai lanciato? Ecco Eccola qua C'è la diamante Davvero? Sì ce l'ha lei Come è andata? Io l'ho visto andare dall'altro opposto Non lo so Non importa E quindi Molto Molto comodo Perché uno Lancia l'oggetto Uno magari è qui in alto Vieni lancialo E gli arriva l'oggetto Direttamente nell'inventario E questo da dove arriva? Questo funziona Solo se Se il pistone E lo slimebox Sono messi in questo modo Quindi soltanto Se vanno verso l'alto Altrimenti Tutti gli altri lati Non funzionerà Infine L'ultima cosa Che è una specie di chicca Che volevamo mostrarvi L'abbiamo vista In un video di Setbling Il creatore Di quel bellissimo minigame Come pizza spliff O di quel Odioso Minigame come 15 seconds to die Che sofferenza Cos'è sto muro d'ossidiana? Eh ora ve lo mostro E è una creazione Tra l'altro fatta da Dolfrus O almeno Speriamo che si pronunci così Che è una sorta Specie di macchina Automatica Quindi potrebbe servire Per creare Delle ruote Di Cioè delle ruote Non delle ruote Che sennò il resto non si sposta Delle specie di macchine Usando solamente Pistoni Slime block E Redstone block E noi abbiamo Scelto questa Da mostrarvi Perché secondo me Era più semplice Da farvi Chiedere solamente Questi ingredienti Questi sette blocchi Quindi prendiamo Tutti gli ingredienti Vediamo se me la ricordo A memoria Aggiungere una stecca Di vaniglia Ma insomma A questo punto Proviamo a far A vedere se me la ricordo A memoria Abbiamo un Uno Pistone normale Uno slime block Un pistone Sticky Da mettere In questo modo Qui Ok Poi abbiamo Il pistone normale Messo così Il secondo slime block E adesso I due Redstone Block Qui sopra A questo punto Basterà Come avete visto Prova a sederti qui sopra Vai sediti Ok Come avrete visto Abbiamo il detector Che quindi Quando vede Un Uno spostamento Di entità Quindi come Quando mettiamo Un blocco Si attiva E adesso Mette un blocco E sta fermo No devo metterlo qui Scusate Error mio La da Ora Porti La nostra Macchina E va via All'infinito Se lo lasciate Guardate L'infinito Con questo ho messo Quel blocco Di ossidiana Se no Non ti fermi più Questo è solamente Un esempio Potete fare Grazie a questi Questi semplici Tre ingredienti Di un sacco Di macchinette Per andare Di varie velocità Di varie dimensioni E cose del genere Non distruggere tutto Questa quindi È la snapshot 14 W 18 Che aggiunge Tutte queste caratteristiche Sullo slime block Fateci sapere Cosa ne pensate Secondo noi È molto interessante Perché È un tempo Sistema Un appunto Mod Per potenziare Il sistema Di pistoni Secondo noi Vederlo Integrato In minecraft È un'aggiunta Sicuramente Interessante Volendo Che può Stuzzicare L'immaginazione Per alcune creazioni Che vedeci nei commenti Che cosa vi fa Venire in mente Questa aggiunta Esatto E poi partiamo Tutte su queste Piccole moto A trazione infinita Che poi Rosso e verde È anche abbastanza Lego Esatto Poi c'è il motore Qui Che carino Grazie a tutti Per essere stati con noi In questa nuova snapshot E L'hai riattivata Sì No Che la fermeremo mai più Sta scappando Come la fermiamo adesso Sta scappando Alla prossima Ciao L'ho bagata Stavolta L'ho bagata No L'ho bagata per sempre Vabbè Pazienza Goglie Tornalove Ciao Addio Addio Ma se proviamo A non fermarla Cosa fa Albero Albero Cosa sta facendo Sta distruggendo L'albero Dai Dai Sei mangiata L'albero Ma dai Peccato che non fosse Quello accanto Hai peccato Ora vedrà Che bello Posso creare Un tagliabirci Automatica Infinita No Non tagliabirci No 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 No